Ciao, bentrovati in questo nuovo video. Oggi sono qui con Carlo Pagliai, ingegnere urbanista, e insieme a lui andremo a sviscerare il nocciolo duro della conformità urbanistica, che tocca particolarmente per il super bonus del 110%. Infatti, se non l'hai già capito, la conformità urbanistica è uno dei requisiti piuttosto sottointeso, ma fondamentale, per ottenere il super bonus, o meglio, per non andare a rischiare di farselo togliere poi in futuro. È da un controllo. Allora, in 60 secondi sentiamo chi è Carlo Pagliai. Vai Carlo. Grazie, Samuele. Carlo Pagliai, ingegnere urbanista, le presentazioni le hai già fatte. Sì, mi occupo proprio della conformità urbanistica sotto tanti versanti, e ovviamente anche quello del bonus 110. È un requisito, diciamo, non è previsto espressamente dalla legge, ma è caldamente consigliato porre attenzione su questo aspetto prima che sia troppo tardi, perché per qualche accertamento l'agenzia delle entrate potrebbe contestare e rivocare il beneficio. Esatto. Bene. Tu, preciso, di che cosa ti occupi da sempre? Compravendite immobiliari, consulenze finalizzate appunto alle compravendite, e alla legittimazione e alla conformità urbanistica per pratiche edilizie. In particolar modo faccio formazione online e in aula. Bene. Grazie, Carlo. Allora, grazie intanto della tua disponibilità per oggi, visto che la tua consulenza è molto preziosa, e per me, ti dico, sei diventato un punto di riferimento da quando è uscito il super bonus, perché abbiamo scoperto un mondo, per me, assolutamente ignoto, e di cui non voglio entrarci, ovviamente, però mi affido sempre a professionisti ultra specializzati come te, che ci possono dare una mano. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere tutti i miei prossimi video in anteprima. Eccoci qua. Allora, oggi andiamo a sviscerare alcuni punti fondamentali con Carlo Pagliai. Si tratta di argomenti legati alle villette, quindi tematiche sulla villetta piuttosto che casa schiera e non tanto sui condomini. Essendo che la rete di sigillo sicuro, quindi la rete di professionisti dedicata a togliere il gas dalle case, si è specializzata soprattutto in questo settore. Allora, parto con la domanda più importante che mette un po' le basi di questa chiacchierata, ovviamente. Che cosa si intende intanto per verifica catastale e urbanistica? Allora, è una procedura lunga in cui praticamente è una due diligence. Si va a ricostruire tutto lo stato legittimo sia sul versante urbanistico, cioè tutte le pratiche edilizie urbanistiche e non solo quelle, anche quelle antisismiche, genio civile, i vincoli, i vincoli paesaggistici di ogni tipo. Quindi tutte le norme, tra cui anche volendo quelle impiantistiche che sono, diciamo, la tua croce delizia, nonché gli aspetti anche catastali, quindi più versanti, verificare quindi tutta la documentazione relativa all'immobile, al fabbricato o alle unità immobiliari e confrontarle con la verifica di rispondenza con l'effettivo stato dei luoghi. Quindi questo anche alla luce delle modifiche arrivate dal decreto semplificazione, che ha cambiato il testo unico per l'edilizia. Ora, non è che ci sia stata una grande innovazione, queste cose si facevano già anche prima, cioè non affermiamo nel 2020 che è arrivata la conformità urbanistica, no, semplicemente è stata messa nero su bianco una cosa che già la giurisprudenza e le buone prassi avevano già messo nero su bianco da tempo. La necessità della conformità urbanistica come verifica è appunto una condizione utile per avere le carte in regola e per iniziare a valutare la fattibilità dell'intervento con il 110. Ok, mi confermi, perché poi non si chiacchiera, che non è nulla di nuovo, come hai appena detto, ma che in realtà deve essere applicata questa regola anche per detrazioni diverse dal 110, quindi 50%, 65% o altre. Esatto, a di la verità è sempre stato così, solamente che il gioco ora si è fatto ancora più pesante, non è una novità. Gli articoli 49 e 50 e il testo unico sono lì dal 2001, il DM 4198 è lì appunto da oltre 20 anni, cioè non ci dobbiamo svegliare, come dire, ah no, ma io per fare 110 bisogna stare attento alla verandina abusiva, alla biopergotenda climatica o queste robe qua. No, anche prima col 50% che è il bonus conosciuto da tutti. Anche quello era soggetto a, come dire, a possibili controlli circa l'abusività dell'intervento oppure no. Quindi da questo punto di vista non c'è nulla di nuovo. Diciamo che hanno alzato la posta in gioco e ora, diciamo, una frangia si è posto il problema di cominciare l'intervento con tutte le carte in regola. Qualcuno ancora, mi sembra di avere un atteggiamento non ancora pienamente consapevole. E per questo, tant'è che il legislatore è intervenuto cercando di semplificare almeno gli interventi condominali, cercando. Però non è proprio così, come dire, semplice la questione. Bene, allora, la domanda adesso viene abbastanza spontanea. Chi è incaricato a fare questo visto di conformità su eventuali abusi o piuttosto che, insomma, deve mettere il cil naso su questo tema? Sicuramente il professionista tecnico è incaricato a avviare le verifiche di fattibilità. È chiaro, non si sta parlando, può essere anche il termotecnico, per carità, ma in genere qui è la figura più del professionista architettonico e anche strutturista. Quindi è la figura che gestisce a livello amministrativo il processo edilizio. Chiaramente qui io sto ipotizzando che ci sia un gruppo di professionisti, un team, ognuno per ciascuno, per le proprie competenze, faccia le necessarie verifiche. A maggior ragione, anche prima di fare le verifiche termotecniche, quali impiantistiche, l'ape, quella convenzionale, o comunque le ape relative allo Stato anteopera, sarebbe bene fare la verifica di conformità. Perché se io nel sottotetto ci trovo una situazione ben diversa, ci trovo i cingalesi a dormire, in cantina ci trovo i cinesi a cucire, o cambi d'uso, o trasformazioni, anche impiantistiche locali che nella legge 10 non sono riscaldati, ma sono riscaldati, insomma, è bene fare prima le verifiche proprio da un punto di vista urbanistico, perché sono anche quelle che poi mi incidano sull'agibilità, mi incidono su tanti aspetti connessi. E siccome molti interventi sul 110 possono essere finalizzati anche a operazioni immobiliari, compravendite, poi locazioni, bisogna porsi il problema, anche da questo punto di vista, di un futuro trasferimento o di un utilizzo verso altri soggetti. Ecco perché anche prima bisognava fare le cose per bene, ma col 110 non sono ammessi sgarri, non sono ammessi errori, la posta in gioco è stata alzata tantissimo. Colgo l'occasione, intanto chi ci sta guardando dove ti può trovare? Quali sono i tuoi canali? Ovviamente il mio blog www.studio-tecnico-pagliai.it YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, un canale Telegram da cui ricevere tutti i vari aggiornamenti, basta. Oddio, può bastare, diciamo che può bastare. Carlo, adesso una domanda proprio diretta, ma in quali condizioni, non permetterei terrore, però effettivamente in quali condizioni l'Agenzia delle Entrate potrebbe revocare i requisiti? Applicando gli articoli 49 e di conseguenza anche 50 del testo unico, nonché il DM 4198, DM delle Finanze, cioè di fronte all'accertamento di un illecito grave nell'intervento, il Comune cosa fa? Deve notificare la questione anche all'Agenzia delle Entrate. l'Agenzia delle Entrate riceve la comunicazione, revoca benefici. Allora, qualcuno mi può dire, ah, di fronte a un illecito grave compiuto in quell'opera del 110. Quindi, uno potrebbe sottintendere, ah, ma allora io, se ho un immobile che è abusivo, perché è già abusivo, abusivo, scusate, ha difformità, se è abusivo lasciate stare. Certo. se però ho delle difformità o delle irregolarità, magari anche lievi, sul fabbricato, nel suo complesso, solo sull'unità esclusiva, chi se ne frega, non è roba grave. In linea di massima, anch'io avevo fatto un ragionamento, però il problema ci rientra dalla finestra, perché viene fatta la verifica sulla pratica di l'inizio, magari su segnalazione, oppure il Comune estrae la pratica, il Comune fa gli accertamenti di riso, e il Comune si accorge che tu hai dichiarato lo Stato legittimo, ma legittimo non è, quindi non è conforme. Si accorge che c'è una irregolarità già prima del tuo intervento, del 110. Allora ti contesta che non hai detto, hai rappresentato in maniera non veritiera la configurazione dell'immobile, hai disegnato in un certo modo omettendo delle informazioni, hai detto che era a posto e a posto non era, io Comune ti faccio comunque il procedimento di violazione edilizia, quindi ti contesto la difformità, ti contesto magari anche un abuso grave. Si fa la svelta in Italia da un piccolo intervento ad averla fatta grossa, pensiamo a vincoli, quindi immaginiamo che una finestra sia spostata di un metro su un edificio che magari ha un vincolo, magari un vincolo delle belle arti della sovrintendenza, ecco. Sì, che volete che sia lo spostamento a una finestra? È vero, però secondo il nostro ordinamento è una cosa grave. Allora, vedete che il pregresso non è fatto salvo. Il pregresso, quindi gli illeciti, le riformità pregresse, mi possano creare il presupposto oggi per dire al Comune hai detto una cosa falsa, hai detto una cosa non veritiera, quindi è un illecito anche quello, formale e anche sostanziale. E si riapre il cerchio, ecco perché io nel video mi sto sgolando a dire guardate, non sottovalutate questa cosa, perché nel momento in cui il Comune fa degli accettamenti e oggi fa il verbale e si accorge c'è qualcosa, lo deve comunque dire all'agenzia delle entrate. Quindi ecco perché la verifica della conformità del pregresso va fatta per non trovarsi poi dei problemi. aggiungo nel decreto rilancio all'articolo 119 in fondo, se non ricordo male, o al 121 dice una cosa ben chiara, guardate che il recupero dell'agevolazione non si fa verso il committente, poi se ci sono complicità, se ci sono diciamo compartecipazioni, si vedrà dopo nelle sedi opportune, vanno accertate, sarà colpa del professionista, saranno colpa delle imprese, ma è tutto da vedere. Intanto il primo che paghi sei te contribuente, quindi occhia la penna, intanto pagate voi, poi si vedrà chi è il vero responsabile. Comunque sia, si parla di solidarietà, quindi committente non è mai colpevole, scusate, non è mai escluso dalla colpevolezza. Esatto, esatto, la lettera arriva a lui purtroppo e dopo tanto paga e poi dovrai pagare ancora per pagarti un avvocato e trovare di chi è veramente la colpa. Siamo così. C'è di peggio, metto la ciliegina sulla torta, ma questo per dire non è per fare terrorista, ragazzi, a me commentate quello che volete. Il problema è che tra qualche anno poi sui giornali vedremo che l'agenzia delle entrate farà degli accertamenti, farà dei mazzi per fare il gesto tecnico. Saranno grossi perché fare un ricorso all'agenzia delle entrate e con l'attuale rito che abbiamo significa io sono l'agenzia delle entrate ti contesto che rivoglio i 500.000 euro di con numero di beneficio. A parte di fatto che poi c'è una reazione a catena che si va anche a bussare da chi ti ha dato il credito money. Quindi non è una questione che finisce solo dal committente ma si va a rivocare dei benefici che interessano anche qualcun altro. Le imprese, l'istituto di credito, quindi non è un problema che finisce a casa del committente. Detto questo, se vuoi fare ricorso ti dice te mi devi versare in acconto subito entro 60 giorni da quando ti fa la notifica quindi te sei avvisato che io ho fatto un accertamento mi devi versare un acconto di 30%. Quindi c'è da versare subito il 30% di quello che viene contestato tra la revoca del beneficio più sanzione interessi. Ah, così. Tanto d'amblè mi paghi 30% e poi ne parliamo. Esatto, è come giocare a poker. Intanto si mette la posta se hai ragione te io agenzie alle entrate ti rendo tutto. Se ho ragione io questo è un acconto e ci vediamo ai livelli superiori se mi farai appello oppure in Cassazione. Non è che sia un gioco su cui ci scherzerei. No, no. Con l'agenzia alle entrate esatto, non ci scherziamo. No, no. Non facciamo terrorismo però diciamo le cose come sono. Nulla di più nulla di meno è che veramente in pochi le stanno dicendo perché è tutto grasso che cola grasso che cola facciamo le cose fatte bene. No, esatto. Cioè non ripetiamo lo scenario che ha fatto Striscia la Notizia qualche giorno fa in cui ha evidenziato una cosa che noi tecnici almeno tecnici di una certa correttezza e preparazione dicono da mesi guardate non si può fare il cappotto con una mano d'intonaco ultra speciale non esiste. Ora arrivata Striscia caso chiuso però non arriviamo fra due anni a vedere l'agente a Striscia che ha delle cartelle esattoriali dall'agenzia delle entrate con 6-0 ecco mi dispiacerebbe che nonostante questi appelli che non sono terrorismo sono atti di consapevolezza che devono veicolare veramente stavolta il 110 non ammette errori non è previsto margine d'errore e non sono previste neanche soluzioni alternative col fisco non si scherza esatto se arriva il fisco fai un fischio ecco è vero grande allora altro argomento molto scottante l'accesso in comune quindi villetta schiera oppure case che non hanno l'accesso direttamente verso la strada quindi qualcosa di pubblico ma hanno l'accesso su un dialetto in comproprietà o altre situazioni è stata sviscerata questa cosa è stata data qualche spiegazione assolutamente il legislatore addirittura è intervenuto dentro il decreto rilancio e lo ha fatto in conversione col decreto cosiddetto agosto allora già anch'io in alcuni video precedenti al mio canale youtube avevo sollevato il problema il dubbio dicendo guardate ci sono due scenari perché poi c'era stata anche un'interpretazione della circolare 24 dell'agenzia delle entrate che aveva rafforzato i dubbi tutto risolto sì fino a un certo punto con la conversione di questo decreto è stato detto guardate le unità situate in edifici plurifamiliari che hanno ovviamente devono essere funzionalmente indipendenti e devono avere l'accesso diciamo autonomo oppure in situazione anche in proprietà non esclusiva o che comunque devono attraversare una proprietà non esclusiva caso banale villetta schiera ho il giardinetto esclusivo quindi ho il mio resede davanti c'ho il piazzale a comune con magari la villetta accanto ora questa rientra e diciamo non viene più esclusa a priori ed è una cosa positiva perché magari c'era la possibilità che le villette a schiera che davanti avevano in marcia a piedino a comune queste erano fuori gioco era un'assurdità che giustamente è stata risolta proprio dentro il decreto rilancio diciamo che si è spostata alla linea però si pone il problema di coloro che magari hanno solo il diritto di passo quindi non hanno la con proprietà non hanno la proprietà comune con altri hanno solo il diritto di passo e anche questa è una zona grigia che comunque è stata spostata però il problema si pone vedremo gli interpelli o se ci saranno ulteriori provvedimenti correttivi che secondo me dovranno venire è un po' come la norma che uscì nel 2018 sui lavori pubblici e sugli appalti c'era un correttivo al mese ma veramente ok chiaro siamo in Italia e io adoro l'Italia andiamo un po' sul concreto sappiamo che bene o male in tanti casi non c'è proprio la perfezione della conformità urbanistica cioè tante famiglie hanno fatto qualche lavoro in casa hanno spostato una finestra hanno un eco-mostro un eco-mostro esatto abbiamo il garage abusivo a parte allora i macro-abusi ovviamente poi per tutto il resto sono ammesse delle sanatorie ha senso farle quando ha senso farle quando invece magari il legislatore ci dà un po' di margine di manovra grazie a tutti